I trionfalismi del governo sono eccessivi? I trionfalismi sono eccessivi, dobbiamo vedere un attimo che cosa accade, perché io ricordo che quando crollò il ponte Morandi sembrava che il di là qualche giorno avessero revocato la concessione ai Benettoni, è passato un lungo tempo per ritornare al dibattito di allora, vediamo se sono norme, se sono provvedimenti, anche qui ho solamente intenzioni, io sono contrario alle concessioni, quindi se il governo prende la strada in Italia di cominciare a rivedere e revocare le concessioni avrà il sostegno del sindaco di Napoli, perché ritengo che bisogna passare da una parte a un controllo diretto dello Stato, dall'altro laddove questo non è necessario perché non si tratta di un bene supremo di interesse collettivo, ben venga la concorrenza, basta monopoli, basta oligopoli, basta concessionari a vita ed è quello che noi abbiamo fatto, forse non tutti se ne sono accorti, qualche anno fa quando a proposito dei lavori della metropolitana abbiamo voluto mettere un freno, seppur un sindaco non ha i poteri di un governo, ha le concessioni ad libitum e abbiamo voluto fortemente che alcune opere rientranti nella realizzazione della metropolitana venissero messe a gara. Ad esempio l'altro giorno mi avete visto che sono andato a vedere i lavori della stazione di aeroporto Capodichino, quelle sono fatte da imprese che si sono aggiudicate gare, quindi vuol dire che bisogna andare nella direzione da una parte della concorrenza e dall'altra ritornare, come abbiamo fatto noi a Napoli, a ritenere che il pubblico non è una brutta parola e anzi noi andiamo anche oltre il pubblico e lo Stato perché siamo la città d'Italia più in avanti sulle delibere sui beni comuni. Io credo che in Italia ci sono tanti beni comuni che devono essere messi in sicurezza e mai più privatizzati sotto legida del verbo pensiero unico liberismo con il motore del turbocapitalismo che abbiamo visto dove ci hanno portato sull'orlo del precipizio.